I don't want to set the world on fire Bentornati cacciatori e benvenuti a questo nuovo video Io sono Bear Gaster e oggi di brutto secondo episodio di Fallout New Vegas Pensate quanto sono abituato Secondo episodio di Fallout 4 uccidendo tutti Comincio subito con lo scusarmi grandemente con voi Per il fatto che la scorsa puntata non sia stata così piena di uccisioni Ma appunto è durata poco, abbiamo solo iniziato il gioco E come i cacciatori più saggi sicuramente sapranno L'attesa amplifica il piacere Un paio di aggiornamenti, ho giocato una mezz'oretta mentre voi non c'eravate Come vedete casa nostra è ripulita da tutti gli oggetti rotti e scassati che c'erano dentro Andiamo subito a farvi vedere con la casa magari del vicino, non la nostra Come funzionano queste meccaniche di crafting e appunto di smontaggio del riciclo degli oggetti Taci, copyright terribile, bravo Quando siamo nelle aree in cui possiamo Questa ovviamente è un'area in cui possiamo, ve lo mostro subito Ecco vedete la linea verde delimita l'area in cui possiamo distruggere le cose o costruirle E andando in giro per il mondo nelle aree appunto prestabilite potremo riciclare gli oggetti che troviamo Dai tavoli agli eterodomestici E ognuno di loro ci darà degli oggetti di scarto e di recupero E quindi probabilmente offline mi porterò un po' avanti nella costruzione del nostro nuovo villaggio di schiavitù Il villaggio del terrore dal quale nascerà tutta la cattiveria della zona contaminata di Boston No, nessun limite di velocità nel nostro villaggio E vedete appunto possiamo smantellare intere case 15 acciaio, 20 legno, 15 cemento e 5 gomma Mio Ma vedremo, magari costruiremo una magione per i nostri futuri schiavi Ma non voglio spoilerarmi troppo i piani per il futuro Attenzione c'è un cagnaccio Saluta il cane Ma sembra resistente, se è resistente così a sto punto lo prendo dietro Ehi bello, che ci fai qua fuori tutto da solo? Oh, attenzione cacciatori E come si fa a cambiare? Bella Testa E Due al corpo Primo spawn dell'avventura cacciatori Assegno Ma forse voglio prediligere un po' il mirino classico Non lo so Ah Lostardo Dogmeat, dammi una mano Grazie Oh Pacchetto di siga si è mangiato questo Questo vuol dire che mettiamo la mano in culo a ogni Ratto talpa che troviamo Oh Luminescenza Una grotta cacciamucche Tana dei ratti talpa Non so, voi ce l'avreste il coraggio di entrare nella tana dei ratti talpa Guardate che aria fetida che gira qua in basso Cane non mi sfiggere Ah, non sei il cane Eh, giustamente A garillo Grande Rex Pss Pss, no Vedete che cazzo Cane Eh, madonna Spoggiato le palle questo cane, ve lo devo dire, cacciatori Oh, benvenzione Ma cosa ha scherati talpa di strano? Sono brutti, più brutti L'idrofobo proprio Sono pieno di schifo verde, ma non si fa Mi ha sorriso al cane Ah, tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che l'altra volta effettivamente ho trovato Anzi ho trovato Cotsword mi ha consegnato un olo nastro registrato dal nostro buonanima del nostro maritino ormai defunto Ascoltiamolo subito Molto creepy, pure nella notte Chissà cosa ci avrà voluto dire Ciao dolcezza Ops No, no, non toccare Ecco fatto Prova a parlare Sì, proprio qui Dai, prova Nooo Che triste Bravo Ciao tesoro Ascolta Oh 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 Attenzione No, no, no Non si fa, porca troia bastarda Ah, questa deve essere la nuova specie di zanzare pollo cacciatori Forti come zanzare e grandi come polli Tutto ciò che faremo Buono a sapersi Lo faremo per la nostra famiglia Ma, cane Ss, aspetta Resta lì Commercia col cane Commercia col cane Ciccino che c'hai picco Cale di merda Vabbè, hai distratto Mi hai fatto cadere di sotto Volevi uccidermi Bestia Scatola delle droghe Sempre sotto ogni letto In ogni casa Ed eccoci a Concord Oh yeah, bitches Andiamo un po' al sistema di armatura Abbiamo l'abito estivo addosso Ma basta, direi Perché adesso è il momento di fare veramente sul serio Vediamo un po' Gamba sinistra da predone Come siamo? Nudi con la gamba sinistra da predone? Giustamente, voi dite Oh, un livello cacciatori Ma perché non me l'avete detto? Siete... madonna Eh, siete dei birbanti proprio Come si scorre qua? Allora, prima perk Veramente importante Cacciatori Proviamo il tristo metitore Cioè, era la perk di livello 20 Del vecchio fallout Adesso lo possiamo prendere a livello 1 Cioè, spettacolo Non potevamo scegliere una perk più azzeccata direi Sembra ci sia qualcuno in giro che usa le armi energia Ehi Oh, what the fuck? Sì Sì, vabbè Ma è un gioco horror E ho ancora un fallout Minchia, io c'ho un cuore solo, eh raga Porca troia Proviamo altro Occhiaio e assaldatore Braccio sinistro Molto bene E basta Quindi, come andiamo in giro? Wow Oh 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 Che figata Vaffanculo Chi dice che questo gioco è brutto Muore all'istante Proprio scompare Puff Oh No, carica sta merda Ah, proprio a mano Non ci pensare nemmeno Puttana Fatti vedere cosa sai fare Sì, sì Fatti vedere che ti faccio vedere io Wow Subito all'azione Non facciamoci togliere troppa vita Ma il cane, tipo Me l'abbiamo perso Wow Wow Quickscope così a gratis Fantastico Dammi tutto quello che hai Cagna Sono dentro Ah, sì Vai Nucleo di fusione, mio Grazie Non so cosa serve ma La parola appare potente, no? Ehi caro, ti ho portato un nucleo di fusione Oddio, grazie Sì Sì Siamo dalla stessa parte Sì ma se avessi voluto ucciderti lo stesso Cioè Ma hai deciso tu poi che sei dalla stessa parte Vabbè Ok Ok L'area da psicopata e ci ce l'abbiamo Diamine Non so chi tu sia Ma hai un tempismo toccabile Preston Garvey Minuteman del Commonwealth Minuteman Minuteman Non ho capito Minuteman Siamo forse tornati indietro nel tempo Un'armatura atomica Mitragliatore a cani rotanti Come un Fucile Non vedo perché no Avrà un grilletto manuale Devi solo mirare ai cattivoni E scatenarli addosso una pioggia di piombo Uh, include il gioco suolo nastro atomic command Prendi C'è cacciatore io ci provo eh Sì, sì Figlio di puttana Non dovevate dirmi di quell'armatura atomica Oddio muoio Finalmente è iniziato cacciatori Questo non si fa niente Lui è l'unico armato nella stanza Quindi bene Ma Fai fruttare il tuo fucile laser Aia Che male che fa Mori Minuteman Delle mie palle Mori 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 Critico Vai Struggles Facciamolo Eh ma non morite voi Non vale Io muoio Poi no Wow ragazzi Nucleo di fusione Dentro Entra E' come lì Il co-pilota è morto all'impatto Che fai Che fai Wow Cacciatori Sono stati uccisi da superstiti spaventati Oddio un'armatura atomica Dove si vede tipo il nucleo che ho ancora? non ho più rivisto perchè non scendi fammi dare un'occhiata alla tua vuoi che scendo va bene venite qua bastardo è un armatura atomica siete un po' di falliti ah si predoni dite no quello è un predone ah si venite bastardi guardi ahahahahah questa è l'arma che dicevo io ahahahahah si interessante questa ribellione oh fantastico no? Ma dove sei? stai prendendo fuoco oh ma tu da dove spunti? tu da dove spunti? lezzo no no scherzavo ricaricala vai scandalo lì tu fai mi mangiare la terra ehi la ehi ci sei andato molto vicino oh madonna vieni qua piccolo bastardo no ma può fare questo? via allora ma altri predoni da scannare non ne sono rimasti si vieni qua cagnolino ahia ancora ma zona devi morire ahahahahahahah siete delle nullità in confronto a me eh ed è consuma però sta armatura atomica eh nessun nessun vi pupate il cazzo quando c'ho l'armi perfetto cacciatori ci vedremo con loro a Sanctuary spoiler non possiamo ucciderli ci ho provato per tantissimo ma vanno a terra e si rialzano come i compagni come Cotsword, come il cane quindi il gioco ci sta limitando per adesso in questa nostra run uccidendo tutti per però facilitarci nello scoprire un po' i primi luoghi le prime cose, quindi va bene ci sta, lo accettiamo ma non dimenticate lo cacciatore noi siamo cattivi come la merda e lo capiranno oh se lo capiranno è luminoso ehi ciccio, quella è casa mia oh madonna che rottura di coglioni tra l'altro io sono scomparsa da te segui i segni fino al cuore di l'uso scusa dicevi? eh vabbè tutti un favore io vi sto per uccidere ma mi chiedete i favori mandate affanculo ma fottiti tu la tua sedia oh madonna è un'invasione cacciatori vedremo cosa fare nelle prossime puntate per questi tacchenti cosa interessante invece guardate con questo cielo che creepy l'entrata di casa nostra se ve ne fate un'idea poi entrerai stiamo per il cazzo proprio no esatto passiamo quindi velocemente di livello due livelli due perk vediamo subito cacciatori direi di prendere ninja innanzitutto per i danni con attacchi da furtivo dato che abbiamo un'intelligenza così bassa andiamo a prenderci più esperienza da questa fantastica perk idiot 7 la tua la tua non è stupidità ma unicità ottieni casualmente tre volte l'esperienza per qualsiasi azione minore la tua intelligenza maggiori sono le probabilità che questo accada noi abbiamo un'intelligenza di 1 quindi molto bene ma cacciatori questi stolti sono ignari della loro imminente sorte totalmente sventurata perché o moriranno o diventeranno nostri schiavi per poi morire è la cosa che preferisco forse non lo so ma direi che per questa puntata può essere tutto non abbiamo fatto tanto probabilmente avverrà un episodio un secondo episodio un po' corto beh uscirà prima al terzo vorrà dire perché un po' di cose a sistemare tipo inventario armature vedere scoprire inventare e vedere cosa fare con questi omaccioni e queste donne impazzite drogate e lo farò offline sistemerò un paio di cose non vi tedio ulteriormente per questo video è tutto io sono Bergaster come sempre se vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su un commento qua sotto non è mai sgradito e noi ci becchiamo al prossimo video bella ragazzi la vecchia pazza martella casa nostra adesso la uccidiamo qui ci becchiamo qui ci becchiamo